Buonasera a tutti, datemi gentilmente un feedback in chat se sentite la mia voce. Ok, quindi mi sentite, perfetto. Tu Marco ci sei? Ciao, salve, buonasera a tutti, ci sono Giuseppe, mi sentite bene? Sì, io ti sento, sì, credo anche i nostri amici trader. Allora sì, la registrazione per Simone che me l'ha chiesto sarà disponibile ovviamente per tutti gli iscritti, poi verrà inviata via email. Allora, sono le 19, vedo che sta entrando un po' di gente, quindi io direi di iniziare a leggere il disclaimer. Allora, ditemi se vedete il mio schermo. Sì, Giuseppe, io lo vedo chiaramente. Ok, perfetto. Datemi un secondo. Ok, allora, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL ed hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento presi dai partecipanti e degli iscritti. E declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL, a meno che non sia stato specificato. Il training di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere all'investimento iniziale, assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Fatemi dare un'occhiata per vedere se è partita la registrazione. Questo evento del Training Talent Show Coaching, come abbiamo già spiegato nei precedenti due appuntamenti, è un'iniziativa che è stata nata dalla volontà di Renato De Carolis, che ho sposato praticamente fin da subito perché è un evento molto interessante, è un evento che durerà sei mesi, ci saranno webinar, ci sarà comunque anche della formazione attraverso il gruppo Facebook ad hoc che abbiamo creato per l'occasione. E quindi vi mostreremo poi durante le varie fasi del percorso le strategie che sia io che Marco abbiamo pensato di proporre per questo evento. Quindi io sono Giuseppe Cericola, il Country Manager Italia di TICMIL, e Marco D'Andrea, il nostro trader e coach, trader quantitativo e il coach del Training Talent Show. Prima di entrare nel vivo di questo evento vi parlo un attimo di TICMIL, è un broker non di Lindesk tra le commissioni più basse del settore con spread a partire da 0 pips. Abbiamo una forte regolamentazione dalla FCA UK con fonti segregati. Abbiamo diversi server sparsi per il globo che ci assicurano una velocità di esecuzione di 0,1 secondo, quindi non ci sono recuote e c'è la possibilità di ricevere anche slippage positivi. Abbiamo un'ampia gamma di mercati, tra cui il Forex, il CFD sugli indici, come il Futsi Mib. Abbiamo aggiunto anche da poco, da diversi mesi comunque, il Bitcoin. Ci sono diversi sistemi di ausilio, strumenti di trading, di ausilio al trader come AutoChartist, la WPS, il One Click Trading e la demo illimitata. Quindi potete fare poi tutte le prove, anche poi per il Training Talent Show non siete comunque obbligati ad aprire un conto reale, potete tranquillamente provare anche su delle demo, visto che comunque hanno una durata illimitata. Non abbiamo costi su prelevi e depositi e abbiamo un interessante programma partner di Tickmill, una partnership come Introducing. Inoltre siamo uno tra i pochi broker che fornisce anche l'assistenza. Abbiamo la fortuna qui di avere Marco, che oltre ad essere un bravissimo trader è anche preparato commercialista in materia e quindi che offre anche uno sconto su tutte le tariffe applicate per i clienti di Tickmill. Poi vi dirà lui dove e come contattarlo. Questa è un po' la mappa dei server sparsi nel mondo, quindi potete vedere che ci sono quelli principali, New York, Londra e Tokyo, e poi quelli di backup su altre parti del globo. Questa è una comparazione che potete vedere voi stessi dal sito di MyFXbook, comparando le qualità, gli spread delle commissioni di Tickmill con gli altri competitor. Vedete che siamo sempre tra i broker ad avere il rettangolino lì verde che sta ad indicare che Tickmill ha le migliori condizioni di training. Potete provare tutto questo con un conto di prova da 30 dollari, per chi non è ancora cliente basta andare sul nostro sito di Tickmill, scaricare, compilare il modulo, quindi lasciando soltanto l'email e potete provare questo conto di prova da 30 dollari. Per qualsiasi cosa potete contattarmi a giuseppechioccio.com.uk Allora, io avrei finito con la presentazione del broker, ne ho approfittato anche perché così stanno entrando altre persone, quindi abbiamo la possibilità adesso di entrare nel vivo. Marco, se sei d'accordo, questo particolare su come si collega la MetaTrader a MyFXbook lo farei vedere io, se sei d'accordo. Assolutamente, sì, sì, a te l'onore di aprire il webinar e poi... Ok, quindi questa prima fase, non so se in chat sapete tutti come si collega un conto a MyFXbook, però questa cosa è particolarmente importante perché proprio per questa iniziativa che abbiamo pensato, sia io che Marco, lo stesso Renato, è quello di mostrare una statistica sulle strategie che poi andremo a spiegare, proprio per avere un riscontro dei dati poi oggettivi su cui andare a ragionare. È un conto di TIC1000, quindi un conto non di Marco, però utilizzerà anche Marco per mostrare dell'operatività. È un conto da 5.000 euro reale. Adesso vi faccio vedere come collegarlo al conto MyFXbook e quali poi parametri andremo a guardare. Allora, per fare questo mi sposto dalla slide e andiamo su MyFXbook. Allora, dalla pagina ovviamente iniziale di www.myfxbook.com, dal portfolio, ad account, quindi poi qui se avete dei conti, ovviamente altri conti appariranno in lista tutti questi conti che sono già agganciati. Allora, io utilizzo due metodi, però adesso ve ne faccio vedere quello che per me è il più immediato. e quindi si va di nuovo su Add Account, MetaTrader 4 Auto Update e qui bisogna scegliere il nome del conto, in questo caso lo chiameremo in Talent Show Coaching, il broker, quindi TIC1000, poi il server, il nostro è Live02, l'account number, che l'ho già copiato, e l'investor password, non la password master, allora la password master è questa qui, la password questa è per entrare nel conto e fare training, poi c'è quella investor che non è dispositiva, quindi non potete fare operazioni, ma serve appunto per agganciare i conti a MyFXbook, oppure se non so, volete mostrare la vostra operatività a un vostro amico, ma non volete che questo amico vi apra per sbaglio dell'operazione sulla MetaTrader, potete dare questa investor e il vostro amico vedrà tutte le operazioni che verranno fatte sulla MetaTrader e quindi non avrà la possibilità poi di operare. Quindi una volta inserita l'investor password, basta cliccare su Crea account, e se va tutto bene, di solito ultimamente MyFXbook sta dando un po' di problemi, però in questo caso siamo riusciti ad agganciare, chiedo scusa, siamo un po' influenzati a collegare il conto, e da qui poi ritorniamo su portfolio e lo vediamo qui in lista. Quindi questo è il conto che è stato creato, ovviamente non ci sono operazioni perché è stato creato proprio per l'evento, e come si fa a renderlo pubblico? Potete sempre andare sulla schermata precedente, su add account, andare sul cercare il vostro conto e cliccare su edit, e qui vi si mostrerà tutta una serie di parametri che potete spuntare. In questo caso, adesso MyFXbook da poco, per rendere pubblico il conto, richiede la certificazione della investor password, che per il momento non la facciamo perché mi richiede un po' di tempo, e dovrei andare a cambiare l'investor password, non sempre dalla demo me la prendo in real, quindi dovrei andare sull'area clienti e cambiare quindi un po' macchinoso come procedura, però sappiate che per rendere pubblico il conto, basta andare appunto a editare il conto da portfolio, ad account, quindi selezionare il vostro conto, e poi da lì selezionare tutti gli altri parametri che volete mostrare. Quando poi io avrò cambiato l'an, l'investor password, saranno mostrati tutti i campi, quindi senza nessun filtro, e quindi poi avremo anche un riscontro statistico. è una cosa che invito a fare voi stessi, perché è importante, molto importante, avere un diario di MyFXBook, perché al di là che una strategia sia valida oppure meno, c'è la possibilità di ricevere diversi riscontri, molto importanti, che senza l'ausilio di MyFXBook non potreste avere. Ad esempio, non lo so, prendendo un conto a caso, quindi andrando anche adesso sulla seconda parte, sulla seconda domanda, l'utilità di MyFXBook, possiamo andare poi a vedere alcune cose molto importanti, che io ho spiegato anche in un precedente webinar, quindi adesso non rubo molto tempo per il discorso, quindi solo un accenno, molto importante il parametro del rischio rovina, perché dal rischio rovina voi potete capire, se il vostro sistema di trading è solido oppure no. Ad esempio, su questo conto qui, abbiamo un rischio rovina di 389 trade, significa che questo conto verrà bruciato, nel caso dovessi beccare una serie negativa di 389 trade, quindi è abbastanza solido come sistema, perché ovviamente per beccare una striscia negativa di 389 operazioni, è molto complicato, abbiamo tutto il tempo di aggiustare il tiro, qualora dovessimo riscontrare che la strategia non sta funzionando, come avevamo prementivato. Poi quindi ovviamente ci sono altri parametri, quelli più conosciuti come leverage win e loss, quindi che andremo a vedere anche questi parametri, l'aspettativa per trade, che è anche un altro parametro molto importante, soprattutto per quegli expert che fanno moltissime operazioni, laddove vedete degli expert, delle aspettative molto basse, non state molto attenti, perché se avete un broker, questo non è il caso di TIC1000, ma se avete un broker con spread molto alti, probabilmente il vostro sistema, qualora andasse a replicare il tutto risulterebbe perdente. Poi ovviamente vedremo altre specifiche, Marco se non sbaglio tu mostrerai delle strategie su GPB-Yen, sul WTI, giusto? Giustissimo, giustissimo. Esatto, e io invece mi dedicherò all'euro-dollaro, un particolare rapporto di amore-odio con l'euro-dollaro, e poi quindi vi mostrerò personalmente delle operazioni, quindi l'operatività su euro-dollaro, che poi verranno appunto convegliati in questo conto, che è un conto pilota, che serve per avere una statistica, e per poi andare a costruire i prossimi webinar, per ragionare sui vari pattern, e capire perché una particolare strategia in quel momento non ha funzionato, e quindi con l'ausilio di MyFXBook, possiamo avere un buon riscontro oggettivo, e avere una buona base statistica su cui ragionare. Allora, io avrei, Marco, concluso su MyFXBook, Adesso ci sono i tre punti della teoria di DAO, se vuoi io posso seguirti con le slide, oppure preferisci con i miei... Allora, guarda, ho letto un paio di domande, praticamente innanzitutto saluto Adriano Masiero, che ci siamo sentiti questa mattina, grazie per gli apprezzamenti, e c'è un altro commento sopra, che mi chiedevano se le strategie sono quantitativi o meno, vi ho appena risposto insomma a Giuseppe, che siamo con MyFXBook, quindi proprio a rapportarci quantitativamente, quindi che cosa vuol dire? Andremo a misurare bene tutta la struttura del prezzo, fondamentalmente, quindi andremo un pochettino a vedere i parametri quantitativi, che cosa vuol dire fare il trading quantitativo? Significa andare a misurare fondamentalmente e a pesare ogni tipo di movimento, cioè andremo a lavorare molto con la matematica, con la statistica, e poco con i grafici e con, diciamo, quelli che potrebbero essere sicuramente diciamo degli abbagli, che fondamentalmente, quindi delle pure illusioni ottiche, che in linea generale può avere un grafico, diciamo, nei confronti di chi osserva in generale. Quindi ora partiamo fondamentalmente anche dai concetti un po' base, che comunque servono, che comunque non vuol dire, cioè fare analisi quantitativa, non vuol dire comunque tralasciare quella che è l'analisi tecnica, o quantomeno i concetti di base, e proprio qui partiamo appunto con i tre punti della teoria di Dau, che a mio avviso è la base che un trader deve conoscere al fine di comunque dei casi in linea generale comunque operare. Quindi ecco, il primo concetto è il sapere individuare un trend, perché molti sanno, ah, io sono, dico, seguo il trend, seguo il trend, ma almeno siamo capaci di individuarlo un trend, e allora adesso vediamo un pochettino come individuarlo. I filoni, diciamo, storici di studio, fondamentalmente per quanto riguarda diciamo il trend, come si sviluppa, come si orienta, sono due fondamentalmente, che è Charles Dau, dal punto di vista, direi proprio quantitativo, e invece per quanto riguarda il discorso tecnico, è quello di Gann, in generale. Non si offendano, insomma, i Gannisti in generale, oppure chi è fan di Gann, in generale, ma per quanto riguarda Gann, rimane comunque, anche se era un grosso studioso, fondamentalmente della fisica, in generale, rimane comunque un tecnico, cioè uno che lavorava con i grafici, mentre Dau, nonostante anche lui, lavorava con i grafici, però lavorava un po' meglio, fondamentalmente, con la logica, in generale, piuttosto che calcoli astrosi, insomma, su rapporti, ad esempio, tra la fisica quantistica, in generale, o quantomeno sull'astronomia, rispetto al trading, quindi al movimento, insomma, dei prezzi. Quindi veniamo appunto al primo punto di come si identifica un trend. Un trend si identifica, secondo la teoria di Dau, dall'andamento dei massimi e dei minimi. Sembra banale, in generale, ma non c'è altro da sapere per individuare un trend. Se io trovo una serie di minimi che, comunque, nei casi, sono rialzisti, accompagnati a dei massimi che sono rialzisti, quello è palesemente un trend al rialzo. Se invece trovo una sequenza di minimi accompagnata da una sequenza di massimi decrescenti, quindi ribassisti, quello è un trend ribassista. Gun che cosa andava ad aggiungere? Fondamentalmente, quelle che io odio tanto, che sono le trend line. Io le odio, poi vi spiegherò il motivo per cui c'è questo odio, questa, comunque, non condivisione delle trend line. Però, da un altro punto di vista, Gun lo faceva fondamentalmente con ideologia, comunque con merito, e comunque, semplicemente, andava a unire i bottom e i top per quanto riguarda sia i massimi che i minimi. Quindi, se vedeva che questa trend, che fondamentalmente è dinamica, perché un trend non è che si sviluppa sempre laterale, quindi in maniera orizzontale, ma può andare in direzione comunque obliqua. Quindi, se la linea obliqua era a rialzo, fondamentalmente il trend era rialzista. Se la linea obliqua era a ribasso, il trend è ribassista. Non vi dico come le tirava le trend, perché sinceramente non l'ho capito nemmeno io, in generale. che cosa, quindi, perché comunque dei casi, perché vi dico questo? Perché tirare una trend, alcuni pensano che la trend deve essere precisa da un minimo a un massimo, comunque, deve toccare solo i minimi, oppure alcuni devono toccare i massimi, alcuni devono toccare anche i minimi, in generale, perché comunque dei casi, magari una trend da supporto può passare a resistenza. Ci sono tante varie ideologie che comunque da un punto di vista scientifico purtroppo non c'è comunque un qualcosa di comprovato, cioè non c'è una legge che dice una trend line si traccia dai minimi, un'altra persona ti può controbattere e dire no, una trend line la puoi tracciare anche dalle chiusure, e chi ha ragione dei due hanno ragione entrambi, cioè non c'è una regola aurea oggettiva per la quale si dice che una trend line comanda, ecco perché fondamentalmente io non le tiro, cioè in generale perché dal momento che non c'è un'oggettività, non c'è una replicabilità delle trend line fondamentalmente a mio avviso ecco ad esempio in questo momento Giuseppe vi sta mostrando come fondamentalmente le sta tirando dalle chiusure o dalle aperture delle candele perché se mettete il grafico a linee vi mostra soltanto le chiusure e le aperture mentre se lo mettete a barre vi dice anche i massimi e i minimi in generale e delle volte vi potete trovare appunto delle trend che tracciate dai massimi rispetto a quelle delle chiusure e delle aperture o comunque dei minimi comportano comunque delle differenze come potete vedere e chi ad esempio c'è chi tollera lo scarto c'è invece chi non tollera lo scarto quindi fondamentalmente ecco perché siamo arrivati conveniamo al punto che qui non c'è nulla di oggettivo è tutto molto soggettivo e soprattutto non c'è qualcosa né di giusto né di sbagliato quindi che cosa che cosa vuol dire questo che fondamentalmente è tutto del tutto aleatorio e basta quindi dal punto di vista dell'analisi conveniamo a quello che dice GAN semplicemente tiro queste linee per vedere fondamentalmente come è il trend ma arrivati a questo punto io condivido più la teoria di Dow e dico osservo l'andamento dei massimi e dei minimi candela per candela oppure a gruppi di candele in questo momento vedo che anche Giuseppe è appassionato dell'indicatore fractal che vedremo dopo infatti volevo spiegare volevo dire un po' la mia sulle trend line però non finisci così sì certo certo così avviamo questo bel confronto in generale però vedete i frattali i frattali ad esempio matematicamente vengono calcolati ogni 5 candele in linea generale poi insomma lo approfondiamo come indicatore in generale però ad esempio appunto se noi tirassimo delle trend sui frattali vuol dire che stiamo ragionando ogni 5 candele quindi stiamo misurando il prezzo ogni 5 candele già ad esempio è un modo un po' più carino oggettivo sensato dici il buon senso esatto mi ha anticipato è esatto di gestire un pochettino discorso trend line e frattali perché stiamo utilizzando un calcolo una misura delle candele e quindi abbiamo un numero quindi 5 ogni 5 candele abbiamo dei frattali che compaiono diciamo o sopra o sotto diciamo dipende da come è impostato diciamo il prezzo e l'andamento del momento e quindi fondamentalmente andiamo a osservare l'andamento che è di swing quindi che cosa vuol dire l'andamento di swing che se non erro è la slide appunto successiva che è il concetto di swing perché mentre nel primo punto della teoria di Dow diceva l'andamento del trend si nota da diciamo l'andamento tra massimi e minimi che cosa vuol dire definire uno swing quindi definire uno swing significa definire o un massimo e un minimo assoluto o un massimo o un minimo relativo che cosa vuol dire questo che tornando appunto al discorso dei frattali che è un indicatore che ce lo semplifica il concetto dal punto di vista grafico ma vi prego di non fermarvi a quello in linea generale noi non possiamo dire che uno swing si può formare con tre candele perché semplicemente hai visto tre candele uno swing invece in linea generale andando ad esempio a lavorare su 20 candele potremmo trovare al massimo circa quattro frattali su un gruppo di 20 candele quindi che cosa vuol dire che già 20 candele attenzione non sto parlando di time frame ma sto parlando di candele quindi di misura di candele possiamo già notare fondamentalmente come magari che ne so le prime cinque possono salire le altre tre possono scendere e le successive cinque ancora salire tre scendere e viceversa arriviamo a 20 candele che ci ritroviamo magari tre in discesa cinque in salita alternati per almeno un paio di volte aspetta Marco facciamo un esempio perché altrimenti poi non si capisce bene il discorso vediamo se riesci a seguirmi con il grafico daily ok è detto che non si tratta di time frame vediamo se riusciamo a fare un esempio concreto premessa sulle trend line sono d'accordo con te infatti sulle chiusure è molto difficile riuscire a dare un riscontro concreto quindi avere oggettività sul tirare delle linee si può fare si può optare su delle chiusure evidenti come in questi casi in questi diciamo pix magari anche aiutandosi con un indicatore rsi ma sono un po' discorsi complicati però si può tracciare in questo modo oppure come piace anche a me l'idea dei frattali perché dai fractal comunque abbiamo un riscontro diciamo comunque oggettivo e quindi possiamo anche fare dei backtest come in questo caso io ho tracciato adesso le trend line da questo frattale a qui quindi da questa zona io potrei pensare di andare long in realtà abbiamo avuto anche qui un altro frattale quindi però vedete come è molto più inclinato come trend line c'è chi la fa lo stesso però in questo caso è molto difficile da lavorare quindi diciamo che con le trend line non si ha proprio un'oggettività al cento per cento quindi poi ognuno può dire la sua però diciamo che sono d'accordo con te Marco dando comunque un'oggettività dandosi delle regole quindi come possono essere i fractal abbiamo comunque dei riscontri oggettivi su cui andare a lavorare adesso sul discorso tuo delle 20 candele se ho capito bene quindi andare a prendere le ultime 20 giusto esattamente ci possiamo ritrovare almeno 4 frattali in questo intervallo ce ne troviamo 6 che fondamentalmente dopo i frattali magari i primi 2 tengono in considerazione anche le altre 10 candele precedenti quindi comunque è tutto un calcolo che si sviluppa su tutta la serie storica e non sull'ultimo intervallo però se noi andiamo a prendere proprio le ultime 20 candele formate in questo momento abbiamo circa 4 frattali che è questo uno quindi sia up che down giusto? esatto sì sì non c'è una regola per la quale ce ne siano tot up o drop down ok quindi abbiamo uno qui se sbaglio correggimi un altro qui esatto sono disegnati dai è facile sì sì ma facciamo dobbiamo renderlo il più semplice possibile e già siamo a 4 e infatti qui ben o male siamo già se non erro già a 15 candele sì questo è ho preso il periodo di 20 candele da qui ok sono 20 candele quindi posso levare le linee perché magari sono un po' fastidiose esatto ok quindi abbiamo intercettato i frattali esattamente questi frattali sono calcolati appunto di 5 candele alla volta e man mano che ogni 5 candele vengono aggiornati i massimi o minimi viene appunto messo questo cappelletto questo cappelletto sopra il massimo o sotto il minimo che cosa sta a significare? sta a significare semplicemente un andamento di swing che cosa vuol dire? che nelle 5 candele precedenti o comunque nelle 3 precedenti e nelle 2 successive quel massimo o quel minimo non è stato aggiornato e quindi diventa di quel movimento di 5 candele il massimo assoluto che rapportato però ad un trend quindi estendendo dopo diciamo il ragionamento a tutta la serie storica che stiamo osservando in questo momento anche andando indietro diciamo unendo i vari frattali andiamo praticamente a osservare quello che è l'andamento di un trend che è un andamento di un trend il movimento di swing si dice quindi che cosa è uno swing swing significa stare svolta quindi che cosa vuol dire? dove il prezzo cambia direzione ecco perché prima facevo una distensione tra massimo di swing assoluto o massimo di swing relativo o viceversa anche sui minimi perché che cosa differenzia un assoluto da un relativo? l'assoluto fondamentalmente è il punto di inizio del nuovo trend e della fine del precedente quindi è un punto di inversione il massimo il minimo relativo è un punto di continuazione ovviamente qua purtroppo si fa la scoperta dell'acqua calda come dico io perché questa notizia la puoi sapere solo a posteriori non è anticipabile che cosa vuol dire questo? che devi avere un trend già sviluppato al fine di dire questo è un massimo assoluto o questo è un massimo relativo quindi se questo è un punto di inversione o meno non c'è modo di poter anticipare fondamentalmente questo tipo di ragionamento serve soltanto ai fini diciamo a scopi di analisi e basta infatti quello che bisogna sempre capire che troverete tanto in generale l'analisi tecnica non funziona ti dico se tu utilizzi i principi di analisi tecnica che nascono appunto per analizzare non funziona no a livello operativo perché serve semplicemente a rendersi conto un pochettino in che condizioni siamo dove è il prezzo seguendo appunto dei canoni o dei principi di analisi tecnica tali che appunto ti riescono un pochettino a dare fondamentalmente quella che è l'informazione per quanto riguarda l'andamento del prezzo e l'andamento del grafico in generale però se dobbiamo andare dopo a parlare a livello operativo dobbiamo aggiungere altro in generale e l'analisi tecnica purtroppo lì è limitata non è che non funziona è limitata va integrata va comunque unita ad altri aspetti poi c'è chi utilizza quella ciclica chi utilizza quella quantitativa chi utilizza l'analisi fondamentale poi ci sono tanti aspetti che poi man mano nel corso di questi webinar andiamo a vedere quelli che secondo me sono i più importanti c'era una domanda che mi diceva che chiedeva fondamentalmente quanti minimi o quanti massimi devo osservare al fine di utilizzare diciamo di capire come sta andando un trend io ti dico che fondamentalmente ne bastano tre in generale c'è chi dice ad esempio sia Larry Williams che ad esempio anche se non erro a John Ross in generale dicevano che ne bastano due io ti dico che fondamentalmente ne possono anche bastare tre al fine di individuare quanto meno un trend se dobbiamo parlare comunque di individuazione però attenzione che questi queste diciamo informazioni servono a capire insomma i grafici in generale soprattutto per i neofili per operare dopo dobbiamo integrare di molto questo tipo di informazioni quindi veniamo appunto al terzo diciamo punto aspetta Marco scusa se ti interrompo facciamo un esempio pratico su quello che hai detto dei frattali in merito alla base storica comunque alla serie storica che abbiamo allora per ricapitolare un po' ci servono 20 candele giusto? allora io ho detto 20 candele ma ne possono possiamo dire anche 10 5 con 20 allora 20 esatto scusate ma un po' di tosse allora quindi io ho preso già qui l'esempio di queste 20 barre allora ok partiamo dalla prima la prima ha un cappelletto perché la prima ha un cappelletto perché e ce l'ha sul massimo soprattutto perché i due massimi precedenti sono in ordine più bassi e i due massimi successivi sono in ordine più bassi come funziona e qua introduciamo pure un discorso un po' più che dopo andiamo magari ad approfondire che è il discorso del ripaint o riprint come si dice in generale in lingua inglese i frattali diventano ufficiali quindi che li vedete statici nel grafico due candele alla chiusura della seconda candela dopo il frattale che vedete in questo momento quindi paradossalmente se nella candela in formazione vi trovate un frattale non è ancora sicuro quel frattale dovete aspettare le due candele successive quando le due candele successive quindi la seconda chiude e in concomitanza apre la terza quel frattale è ufficiale finché non chiude la seconda candela e quella candela paradossalmente può andare a negare quel massimo o quel minimo e quindi fondamentalmente non è più non è più valido in generale quindi qui dove ho messo la freccia giusto? esattamente lì va fatta fondamentalmente la diciamo la prova del nove cioè dove fondamentalmente quella candela chiude e ufficializza il frattale quindi quel frattale che era ufficializzato lì poi scorrono altre cinque barre guarda là proprio preciso e si forma il frattale inferiore perché dopo che cosa ma questo scusa Marco diventa per te il massimo assoluto adesso? cioè il frattale assoluto questo? della tua per ora sì per ora sì diventa un frattale assoluto per il semplice fatto che comunque anche storicamente parlando quindi togliendo il discorso delle 20 barre successive cioè precedenti perdonami sono tutti massimi più bassi quindi per me quello diventa diciamo l'inizio del trend dopo di che continuando a contare le candele quindi cinque candele a partire dalla freccetta e si crea un'altra diciamo un altro frattale e in generale questa volta sul minimo che cosa vuol dire questo? che in due minimi precedenti e due minimi successivi sono più alti di quel minimo lì e quindi lì si è creato un minimo che attualmente è relativo perché comunque dei casi cioè assoluto fino a quelle cinque candele però andando avanti con i conteggi diventerà relativo quindi si ufficializza sempre dopo la chiusura del secondo minimo successivo a quel frattale lì e quindi arriviamo fondamentalmente ad aggiornare il massimo quindi il tuo trend si sta formando in questo modo qui no? questo diciamo che come la chiamano? la prima gamba? potrebbe essere? la prima gamba io semplicemente lo chiamo impulso quindi la prima diciamo la zona dove si viene a creare l'impulso che ovviamente a livello diciamo semantico l'impulso è la somma dei volumi in questo caso in vendita con la direzione legale del prezzo quindi dell'andamento dei minimi dei crescenti e quindi c'è un impulso viene chiamato rimbassista dove il massimo viene venduto i minimi vengono negati e aggiornati chiamiamola quotidianamente quindi per ogni candela poi è giusto perché siamo sul daily quindi quotidianamente e quindi fondamentalmente lì si sta sviluppando un trend ribassista c'è un andamento di massimi e minimi ma non c'è un ricracciamento ora vediamo a venire appunto a convenire sul discorso del ricracciamento perché si è creato il minimo relativo poi alle successive due candele quel minimo relativo viene confermato viene dopo si viene a creare anche il nuovo massimo relativo che viene confermato con le due successive candele ed ecco e noi lo vediamo solo qui quindi questo questo frattale già viene fatto viene confermato qui esatto all'apertura di quella quindi noi possiamo cioè asseriamo con assoluta precisazione che questo è un ritracciamento del esatto del primo impulso prima gamma come poi diciamo dove ha messo la freccetta Giuseppe quello si chiama fase di distribuzione poi nel nuovo massimo c'è il nuovo impulso il secondo impulso che dà vita diciamo alla seconda fase di trend già ad esempio con due massimi decrescenti la rottura del minimo questo è il famoso pattern 1-2-3 che poi magari approfondiremo in secondo in un secondo momento in generale questo si chiama fondamentalmente andamento a scaletta come la chiamava il maestro Larry Williams e quindi fondamentalmente questo è un andamento di trend a ribasso ecco secondo questi due personaggi il trend si sviluppa con un paio di elementi di massimo e la negazione diciamo del minimo di swing poi ovviamente c'è chi ad esempio Ross dopo si è inventato pure il discorso del lucino del Rossoc quindi fondamentalmente andava ad aggiungere un'altra gamba come giustamente la diceva Giuseppe quindi prima gamba è diciamo impulso distribuzione seconda gamba distribuzione nuovo impulso terza gamba distribuzione cioè impulso nuova distribuzione quarta gamba e quindi alla rottura di gamba quattro fondamentalmente si sviluppava quello che è lo shock e quindi l'andamento del trend ribassista in generale poi vi dico manco per niente perché una volta che si è sviluppato tutto sta in baragam il trend è già partito quindi in generale almeno che non è c'è chi lo anticipa già sul primo respiro della prima gamba cioè in questa zona qui inizia a cercare i setup per andare a rivedere i minimi perché si aspetta la terza gamba c'è chi opera minimi relativi e assoluti in generale in questo caso ti sei creato un trend che era ribassista però poi lo vai a rapportare con la serie storica cioè per capire dove siamo la domanda che uno deve poi deve ricevere risposte è ok ma io mi traccio queste trend line tutto quello che vuoi ma dov'è che devo entrare e perché devo entrare perché queste sono comunque domande che poi ogni trader si fa perché ovviamente poi se è meglio di me tutti si fanno magari si tracciano le trend line quello che vuoi però poi c'è da capire dove entrare dove piazzare perché in questo caso lo vediamo c'è io si è iniziato come abbiamo fatto ad analizzare da qui e mi fossi trovato in questa situazione qui in questo caso quindi con questo se ho capito bene Marco il tuo ragionamento con l'aiuto dei frattani che cosa potevo fare già da qui perché ovviamente sulla prima gamba io non posso fare granché perché comunque devo aspettare comunque un impulso però già sul primo respiro quindi sul frattal su questa zona qui già potrei iniziare a pensare magari di se vedo che il trend è rialzista quindi perché comunque al di là di tutto però in questo caso il trend si vede che è rialzista no? esatto anche una media mobile è quello che vuoi a me serve io adesso sto pensando per come la penso un po' io a me piace lavorare in trend quindi però devo cercare un setup per entrare long in questo caso aiutandomi con l'analisi che hai fatto tu quindi io potrei aspettare il terzo impulso su questa zona qui e però Marco dove entro poi? cioè dove posso entrare? qual è un punto di entrata che potrei utilizzare? adesso fondamentalmente guarda facendo questa domanda è molto riduttiva perché se siamo ad esempio in un mercato che no no mi sono spiegato male io su questo terzo impulso io lo vedo che è finito qui esatto quindi potrei eventualmente iniziare a pensare di entrare qui perché il frattale questo fractal mi è stato comunque confermato quindi avrei diciamo una terza gamba terzo impulso frenato quindi potrei iniziare a pensare di lavorare in direzione del trainer quindi cercare soltanto set up o long per magari andarmi a riprendere questi massi è una buona idea per te potrebbe ha una logica dipende dal mercato in cui operiamo perché se siamo in un mercato che è in fase direzionale o che comunque solitamente sviluppa fasi direzionali il discorso che dici tu non fa una piega se invece siamo in un mercato che generalmente non ha la fase direzionale come ad esempio molti cambi in generale quindi lavorano spesso in fasi laterali in quel caso lì andare a cercare il trend è come andare a cercare insomma andare a ricerca insomma del santo gral comunque dei casi di un qualcosa di un paiaio che in generale non proveniamo mai perché fondamentalmente operare in trend nei mercati dove non si muovono in trend è un po' una cavolata però sull'euro dollaro comunque da 1,05 1,25 quindi diciamo che il trend è bello il trend c'è stato qui quindi diciamo ci sono state altre migliaia di opportunità quindi siamo notevolmente ovviamente in ritardo rispetto a quello che già è avvenuto però comunque già qualcosa se per chi poi volesse operare in trend con questo tipo di approccio si potrebbe già pensare esatto esatto quindi da qui insomma definito un pochettino quello che è il discorso del trend di come individuarlo perché ad oggi stiamo andando pure un po' troppo avanti insomma con l'operatività perché per ora mi volevo fermare fondamentalmente a cercare di trasmettervi quella che è la differenza tra operatività e invece il discorso di analisi perché che cosa vuol dire questo proprio la differenza è proprio qui è sostanziale che mentre come abbiamo detto prima possiamo star qua anche tutta la serata insomma a parlare di dove entrare come entrare quale potrebbe essere l'entrata migliore o l'uscita anche migliore perché alla fine non conta tanto manco l'entrata ma conta tanto invece l'uscita cioè quello che riusciamo a portare a casa quindi la perdita che magari riusciamo a limitare o il profitto che magari riusciamo a ottimizzare conta quello nel trading non conta fondamentalmente se un'entrata perché l'entrata ti dico c'è pure chi la fa caso che utilizza molto la random walk che sono diciamo gli ingressi casuali e poi vengono ottimizzati con il money management c'è anche chi fa questo lo fa in maniera molto profittevole ed è un discorso che comunque dei casi io ad esempio sposo molto perché comunque dei casi anche lì è un approccio del tutto matematico perché è vero sì che l'ingresso non è contemplato ma viene invece contemplata l'uscita quindi la gestione del trade quindi del position sizing quindi della diciamo della quantità dell'ottaggio del margine e comunque della gestione sì assolutamente d'accordo Marco con te Marco direi visto che abbiamo siamo già a 45 minuti no? i prossimi argomenti li trattiamo nei successivi webinar eh guarda terminiamo il discorso diciamo della teoria di Dow che andiamo a vedere appunto quello che è il terzo punto e poi passiamo magari a qualche domanda e concludiamo era questo quale relazione prezzo tempo no? esatto sì esatto il terzo punto è la relazione prezzo tempo che cosa vuol dire relazione prezzo tempo Dow sul terzo se il primo quindi facciamo un ricapitolo veloce il primo punto il mercato si muove in trend il trend l'abbiamo visto come diciamo individuarlo il secondo punto che il trend si muove in punti di swing quindi bisogna raggruppare un tot numero di candele e individuare un pochettino quelli che sono gli swing il terzo punto è che il mercato si ripete tutto si ripete o meglio la parola è tutto si ripete che cosa intende dire Charles Dow con tutto si ripete significa che fondamentalmente ha dato vita a tre diciamo cicli fondamentalmente o tre filoni dell'analisi tecnica in generale il primo è la seasonal analysis che praticamente è più quantitativa che tecnica e praticamente va a studiare la stagionalità ci sono molte materie prime che sono affette da stagionalità ad esempio le granaglie o comunque nei casi le materie prime agricole ma anche ad esempio lo troviamo un pochettino sugli indici lo troviamo sul forex assolutamente no però lo troviamo su molti altri strumenti ad esempio qualcosa magari possiamo riscontrarlo sul natural gas perché il natural gas c'ha stagionalità perché comunque nei casi il gas naturale viene utilizzato più spesso in estate per quanto riguarda l'utilizzo diciamo dei condizionatori e in inverno per l'utilizzo diciamo dei riscaldamenti poi vedrete che il periodo di aprile fatici caso magari prendete un bel grafico del natural gas e vedete che tra circa diciamo marzo-aprile e giugno il natural gas va in laterale come spesso va in laterale anche tra diciamo fine settembre primi d'ottobre fino a novembre perché comunque non viene quasi mai utilizzato quindi c'ha un prezzo stabile poi tende a impennarsi diciamo nei momenti di maggiore utilizzo poi abbiamo l'analisi ciclica l'analisi ciclica ad esempio la utilizziamo molto sul forex ad esempio c'ha senso utilizzarla nel forex e c'ha moltissimo senso utilizzarla sugli indici perché da dove nascono i cicli i cicli nascono ad esempio dalle elezioni presidenziali cioè quando viene eletto un presidente comunque di un'azione importante non l'Italia perché non contiamo niente ad esempio il presidente americano o comunque il capo del governo francese il capo del governo inglese quello tedesco in generale o anche quello giapponese quello cinese che comunque hanno forza comunque di quindi volumi di andare più o meno a condizionare quelle che sono diciamo il mercato un ciclo nasce appunto dall'esezione presidenziale se voi andate a vedere bene o male l'America negli ultimi dieci anni quello è il ciclo di Obama e vedete che bene o male il prezzo ha comunque una continuità andate a vedervi l'S&P 500 che stavo facendo notare insomma le potenzialità anche del broker Tickmill su questo tipo di strumento a Giuseppe che lui è un po' è un pochettino diciamo allergico agli indici è un po' più appassionato insomma sul forex io invece il forex lo tratto non di meno ma comunque con più marginalità rispetto agli indici perché comunque dei casi mi piacciono molto di più sono più esperto in quello però ovviamente anche sui cambi valutari o i miei sistemi in generale ho scoperto insomma le potenzialità molto buone insomma del broker Tickmill che comunque nei casi mi permette rispetto al futures ad esempio di diversificare meglio il lotto avere una marginalità più bassa quindi comunque sfruttare meglio il money management e voi andate a studiarvi a osservare un pochettino come compitino per casa ad esempio l'andamento degli ultimi dieci anni anche mettendo il grafico magari anche settimanale o mensile per avere l'idea anche un po' più chiara senza andare analizzare candela per candela perché se non avete gli strumenti automatici purtroppo si fa fatica insomma a fare quello viene chiamato paper trading ovvero lavorare carta e penna in generale e vedete che bene o male che ne so vi dico che vi trovate ad esempio che ne so la prima settimana del mese di gennaio potrebbe coincidere con lo stesso andamento long dell'anno successivo e dell'anno ancora e quindi vi riscontrate un pochettino quella che è appunto la ciclicità e quindi anche un pochettino di stagionalità che sono molto simili come concetti solo che la stagionalità misura semplicemente il tempo la ciclicità invece osserva molto l'andamento dei massimi e dei minimi in un arco temporale quindi misura i massimi e i minimi relativi o assoluti in un determinato ambito temporale in generale poi l'ultimo pezzo è appunto il discorso dei bias che cosa vuol dire i bias i bias sono semplicemente delle ripetizioni quindi è sempre un discorso di ripetitività quindi in generale che comunque fa scopa con la seasonality e con il cycle quindi comunque con la ripetizione di determinate cose solo che i bias ripetono i pattern cioè in linea generale i pattern di prezzo sta per pattern si intende un andamento diciamo oggettivo di un prezzo quindi ad esempio un pattern per fare un esempio molto semplice molto banale se ad esempio se io tutte le mattine mi alzo alle sette e mezza quello è il mio pattern cioè un mio bias una mia abitudine che io sviluppo tutte le mattine da lunedì al venerdì mi alzo alle sette e mezza se il mio diciamo stile di vita fosse tradabile tutti farebbero insomma un sacco di soldi perché se c'è una cosa su cui scommettere andare quasi sicuro è che Marco tutte le mattine si alza alle sette e mezza se ad esempio lo traduciamo con una candela rialzista tutte le mattine andiamo long alle sette e mezza sul mercato di Marco ad esempio io ad esempio un affarino del genere una cosa molto carina di questo genere l'avevo riscontrata proprio su Eurodollaro sulla candela delle otte e mezza che dalle otte e mezza alle nove sviluppava sempre direzionalità poi ho scoperto che purtroppo c'era la fregatura che il 50% delle volte era rialzista e il 50% delle volte era ribassista questo purtroppo è il limite del Forex ecco perché delle volte a livello quantitativo sposo di più gli indici o ad esempio anche il VTI il VTI scusatemi perché comunque dei casi hanno queste ritmie queste inefficienze chiamiamole così o comunque ripetizioni statistiche più frequenti rispetto ad esempio al Forex in generale perché è un mercato efficientissimo e andare a lavorare con la stagionalità i Bias in generale diventa parecchio difficile e soprattutto se li scoprite molto probabilmente verranno riassorbiti non dico presto ma non dico prima di subito ma comunque dei casi in breve tempo invece ci sono aritmie su determinati strumenti quindi delle diciamo piccole inefficienze che permangono per molti molti anni ovviamente chi le scopre non le dice perché in generale più persone le sanno e meno funzionano diciamo queste sono il vantaggio di avere un'informazione chiamata privilegiata anche dal punto di vista statistico diciamo è così in generale ovviamente però bisogna avere anche una buona potenza insomma economica per andare a sviluppare una diciamo a negare una sorta di inefficienza che il mercato viene a sviluppare quindi lavorare sul forex ad esempio sugli atteggiamenti ripetitivi diventa un po' un problema perché analizzandolo con degli strumenti che poi vi mostrerò insomma in generale vi farò vedere che ci sono ma vengono riassorbite in poco tempo cioè se andiamo a fare l'analisi su 10 anni ci dice 50 e 50 quasi sempre quindi hai il 50% delle possibilità che va long e il 50% delle possibilità che va da short mentre per quanto riguarda invece il più breve periodo lo andiamo a utilizzare ad esempio a studiare su un paio d'anni notiamo invece che quell'inefficienza sposta gli equilibri quindi magari ti trovi anche un 70% long un 30% short però ovviamente non puoi stimare quanto in realtà possa ancora perdurare quel tipo di atteggiamento perché molto probabilmente è legato al trend di lungo periodo come ci ha fatto vedere prima sicuramente Giuseppe prima abbiamo visto il trend dell'euro dollaro che se non erro bastonami se sbaglio dovrebbe essere negli ultimi due anni e mezzo ha iniziato bene o male a uscire da quella che è quella fase diciamo brutta laterale che ha caratterizzato fino a quel momento insomma il mercato dell'euro dollaro poi questo lo vedremo un po' analizzando le dove ci sono stati morti e feriti diciamo esatto in quella fase laterale e ad oggi invece il mercato dell'euro dollaro questo mi sembra che è l'ultima parte del trend e bene o male dovrebbe essere gli ultimi due anni insomma giorno più giorno meno mesi più mesi meno partito un po' tutto con Trump anche per legarmi al discorso che facevi prima esatto il discorso dei cicli in generale che sul forex come dicevo prima c'ha senso utilizzarli perché proprio da Trump partono le varie politiche insomma in generale che sono stati completamente differenti da quelle di Obama quindi che cosa vuol dire avere un cambio valutario laterale vuol dire che il cambio è stabile che vuol dire un cambio sempre long o sempre short che vuol dire che le politiche stanno andando diciamo a favore diciamo di quella nazione quindi vuol dire che una politica a favore della nazione il cambio svaluta una politica invece a sfavore di quella nazione il cambio si rivaluta quindi un euro forte quindi comporta un dollaro debole e quindi un'America in espansione queste vabbè sono nozioni di macroeconomia che poi magari dedicheremo una parentesi a parte insomma poi vediamo tutto nel dettaglio nei prossimi eventi l'importante è che mi lasci l'euro-dollaro l'euro-dollaro perché faremo proprio una strategia molto particolare non vi anticipo nulla per il momento quindi vediamo se c'è qualche domanda in chat allora vi invito comunque a seguire il gruppo di Facebook perché da lì poi ci saranno tutti gli aggiornamenti e quindi poi lì se avete anche delle domande da fare potete farle sul gruppo e quindi vi rimando di nuovo il link allora io domande non allora oddio sì c'è quella di Cornelia allora sì le registrazioni sì sulla registrazione potete rivedervelo credo che sarà disponibile a breve non so se domani ma comunque nei prossimi giorni quindi riceverete la registrazione Marco io direi che possiamo chiudere qui ok se avete delle domande particolari fatele sul gruppo iscrivetevi al gruppo Facebook perché da lì poi ci sarà tutto il diciamo seguiremo tutti le varie i vari aspetti legati a questo questo evento grazie a tutti per l'ascolto e vi auguro una buona serata grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti